Era una giornata dove dovevo sbrigare un po' di cose, pagare bollette, pagare l'affitto, quindi ho passato un po' di tempo al pc e ho dovuto mettere gli occhiali, perché io dovevo un po' di tempo, non so se sto crescendo ma non ci vedo più, quindi mi perdonerete e mi mostro così Per drammatizzare un po', visto le mie storie precedenti, vi voglio mostrare uno strumento utile per quest'estate soprattutto per noi donne, che al mare ci faremo 50.000 foto, video, intaseremo il nostro cellulare, non avremo più memoria quindi arriva la flash drive Questa chiavetta che si collega tranquillamente ad ogni tipo di cellulare, ci sono diversi qui agganci e potete scaricare qualsiasi file, documento, foto, video qua dentro e poi trasportarlo nel vostro pc e tenerli al sicuro Adesso vi spiego bene i dettagli e vi faccio vedere quanto è semplice utilizzarla Questa è la nostra chiavetta, io ho scelto di prenderla in questa colorazione rosa, è disponibile anche in nero potete anche personalizzarla come meglio volete con un'aggiunta di 5 euro è disponibile in diverse dimensioni 32, 64 e 128 giga, quindi anche molto capiente Per collegarla è veramente semplice, basta ad esempio per il mio iPhone aprire l'USB all'interno trovate il vostro aggancio Poi premere su consenti e si aprirà l'applicazione Andate su locale, premete i tre puntini in alto a destra premere selezione e selezionate i vostri file che volete trasportare nell'USB Dopodiché la inserite nel vostro cellulare dovete prima scaricare l'applicazione che adesso vi mostro che si chiama iDisc, disponibile in Apple Store e su Google Play Io ho selezionato i vari commenti che devo girare al mio avvocato tanto per essere in tema Dopodiché in fondo a sinistra premete questo pulsante fate copia su USB, attendete il caricamento per essere sicuri premete su USB in alto a sinistra e vedrete che i vostri file sono all'interno della chiavetta Quindi adesso io l'ho messa nell'iPad perché farò lo stesso lavoro anche qui Vi lascio un codice sconto che è ROSI20 per avere il 20% di sconto sulla flash drive, questo strumento che sarà veramente essenziale quest'estate per liberare la vostra memoria